Benvenuti alla bottega didattica per il FaiDate Digitale, sono Gianfranco Marini e in questo incontro volevo parlarvi di Etavist. Qui vedete il nome di questa applicazione e l'indirizzo. Si tratta di un'applicazione web, è un'applicazione web premium, quindi abbiamo una versione di base free che presenta tutte le principali funzionalità e poi abbiamo vari piani di abbonamento. Etavist è uno strumento di pubblicazione di contenuti sul web. Questi contenuti possono avere vari formati, cioè multimediali, in senso lato, e quindi testi, immagini, grafici, gif animate, video e così via. È molto versatile perché in quanto strumento di pubblicazione web possiamo pubblicare qualsiasi cosa. Poi faremo qualche esempio, ma insomma, da una relazione a una lezione, dalla documentazione di un evento a un progetto e così via. Per recarci sul sito dell'applicazione digitiamo Etavist su Google, per esempio. Ecco qua, il primo risultato che compare. Clicchiamo, questo è Etavist. Per effettuare la registrazione andremo su Sign Up e compileremo il solito form con l'indirizzo, una password e così via. Io mi loggo col mio account. Si può collegare anche con il proprio account Facebook. Questo può risultare comodo, qualora ci siamo dimenticati la nostra password. Una volta collegati, ci apparirà la nostra dashboard o cruscotto o pagina principale. Cliccando in alto a destra su quest'icona, io non ho ancora inserito un'immagine, potrò editare il mio profilo. E quindi inserire il mio nome, inserire una breve descrizione di chi sono e di cosa faccio, inserire una mia immagine e anche, e questo è molto interessante, fornire un nome per l'indirizzo dei miei lavori con Atta. Visto in questo caso, ho inserito il mio nome e cognome. Da qui posso effettuare l'upgrade. Cliccando su questa icona, torno alla mia dashboard. Prima di procedere con la presentazione del programma, volevo mostrarvi i piani di abbonamento. Creative è quello free, che ci offre una piena funzionalità, cioè disponiamo di tutti gli strumenti per comporre la nostra pubblicazione. In più, abbiamo un numero indeterminato di pagine che possiamo pubblicare ogni mese e possiamo costituire un team di 5 membri. Abbiamo anche la possibilità di visualizzare il numero di visualizzazioni, scusate il bisticcio di parole, e siamo supportati dall'Help Center. Come vedete, esistono poi vari piani di abbonamento, fino addirittura a 250 dollari al mese, ma per quelle che sono le esigenze di un docente e dei suoi studenti, è più che sufficiente il piano free. Gli altri offrono varie possibilità, come avere un supporto via mail, oppure la possibilità di esportare i dati, oppure personalizzare l'URL e il logo, impostare password multiple, ampliare il numero dei membri del team, ma basterà far fare l'account a un nostro studente o a un gruppo di nostri studenti e avremo a disposizione vari team. Quindi diciamo che si può tranquillamente utilizzare in modalità free. Bene, da questa pagina possiamo accedere tramite questo menu a degli esempi. Vediamo com'è il risultato finale di un contenuto pubblicato con questo strumento. Clicchiamo su questo, ecco vediamo la visualizzazione. Questa è la copertina, come vedete abbiamo lo stream, cioè lo scorrimento con una barra, potremmo anche avere una scansione per pagine. Abbiamo del testo, immagini, testo, una mappa, altra immagine, abbiamo una registrazione audio. Come vedete nel testo possiamo inserire qualche elemento di formatazione, possiamo inserire dei link, altra immagine, e così via. Bene, come vedete il risultato è abbastanza elegante, piuttosto semplice, la visualizzazione è molto efficace, è nitido, come impaginazione, visualizzazione. Vediamo adesso come realizzare un contenuto e pubblicarlo con Atavist. Clicchiamo quindi su Project, Progetti, e per realizzare un nuovo progetto basta cliccare su questo segno più, nuovo progetto. Bene, questo è il mio nuovo progetto, devo dare un titolo al mio progetto, imparare Atavist, devo anche dare un sottotitolo, in cui fornirò alcune informazioni, posso, come vedete, anche inserire il nome dell'autore e editarlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che cliccando qui posso decidere se fare in modo che venga automaticamente inserito il nome del mio account con cui mi sono registrato, oppure un altro nome, qualsiasi. In questo caso ho personalizzato la denominazione dell'autore e qui dare una descrizione più dettagliata, in questo caso guida per imparare ad utili. ecco, per esempio. A questo punto ho terminato, ci sono anche configurazioni avanzate, proviamo a vedere di che si tratta, perché questa fase è molto importante. Posso anche decidere il momento esatto in cui io voglio che venga pubblicato il mio progetto. Può essere una termine per me, per esempio aprile 17 2016, addirittura l'ora, verrà automaticamente pubblicato. Posso aggiungere una soundtrack, cioè una traccia audio, basta cliccare qui e, vedete, dare un titolo e cliccando su upload, cioè su carica, effettuare una ricerca nel mio computer e caricare una musica. Posso anche configurare altri parametri per la traccia musicale, per esempio si avvia la traccia musicale all'avvio della presentazione dell'Atavis, della mia pubblicazione su Atavis, oppure off, oppure autoplay durante l'intera storia e così via. posso anche inserire dei tag per la musica. Posso inoltre aggiungere dei tag, ricordo che i tag sono delle etichette della parola e chiave che mi consentono di etichettare, quindi qualificare in qualche modo il tipo di contenuto che io sto pubblicando. Questo può essere utile per i motori di ricerca, può essere utile per me se voglio cercare nell'archivio dei miei contenuti. quindi qui inserirò edit tag, inserirò per esempio tutorial, add, aggiungi. Come vedete a questo punto abbiamo già Atavis e tutorial. Ancora posso inserire altri tag, per esempio tutorial italiano, tutorial Atavis e così via. Una volta che avrò terminato la configurazione di questi parametri, posso cliccare su save. Bene, questa è la prima operazione che dovevamo fare, l'abbiamo compiuta, vediamo adesso che altre opzioni ho. Atavis è molto interessante perché è semplice, effettivamente è molto facile da usare perché ci propone dei modelli preconfigurati che noi possiamo personalizzare a seconda delle nostre esigenze. vediamo adesso come configurare e impaginare la nostra copertina molto importante perché è il primo impatto che il nostro pubblico avrà con la nostra pubblicazione. Clicchiamo sempre qui in alto a sinistra e vediamo che abbiamo una serie di pulsanti. Cominciamo con il pre, il design del titolo. Cliccando qui ho varie opzioni. Sulla destra mi viene visualizzato il modello che ho scelto. In questo caso il modello è il modello semplice ma posso disporre di altri modelli. Per ogni modello avrò delle opzioni allineamento centrato allineamento a sinistra. Andiamo a vedere. Ecco, queste sono le varie opzioni. Per esempio, scegliamo questa Moby Dick. Decido di usarla, quindi cliccherò qui in basso a sinistra su Use e come vedete ho varie opzioni. La prima è il background. Abbiamo un'immagine ma potrei anche selezionare decidere di selezionare un colore. Io sceglierò un video nel caso del video ovviamente dovrò caricarlo. Io sceglierò perché è più semplice e rapido un'immagine quindi cliccherò su Upload perché devo caricare l'immagine. Andiamo su Immagini e scegliamo i tulipani. Ecco, l'immagine è stata caricata e si presenta in questo modo. Interessante perché ho la possibilità di visualizzare come comparirà la mia immagine in un computer desktop o in un dispositivo mobile per esempio in uno smartphone. Ecco, questo è il modo in cui comparirà nello smartphone. Come vedete ho anche uno strumento di selezione che mi permette di selezionare l'immagine ecco per esempio se lo posiziono qui al centro in alto mi comparirà in questo modo in un smartphone e in questo modo sempre in un computer mobile. noi naturalmente sceglieremo quest'immagine ecco per esempio al centro questo tulipano striato. Bene, è fatto questo ho torniamo sul desktop sulla visualizzazione desktop e ho la possibilità di salvare a questo punto. se voglio vedere il risultato basterà che clicchi su preview anteprima ecco che sta caricando l'anteprima un attimo ancora ecco questa è la mia anteprima su desktop e la mia anteprima su dispositivo mobile. Bene, torniamo adesso alla nostra pagina di lavoro all'editor e vediamo che cosa fare. Bene, per prima cosa io ho preparato una lista di possibili utilizzi di Etavist dobbiamo pensare che questo strumento è uno strumento per pubblicare dei contenuti sul web e come in un foglio di carta possiamo scrivere qualsiasi genere e tipologia di testo anche con Etavist possiamo realizzare qualsiasi tipologia di documento per esempio potrei documentare un'esperienza che sono un viaggio di istruzione una uscita didattica posso presentare delle risorse che ho prelevato su un determinato argomento dal web per esempio una tematica disciplinare e aggregarle in una pubblicazione potrei preparare un materiale multimediale sull'argomento di una lezione e utilizzarlo per svolgere quella lezione oppure potrei realizzare o far realizzare una ricerca agli studenti o potrei presentare la relazione su un'esperienza posso raccontare un'attività didattica per esempio può essere una sorta di diario di apprendimento in cui gli studenti scrivono come sono arrivati scrivono e raccontano come sono arrivati a realizzare un determinato contenuto un determinato prodotto a svolgere un determinato esercizio posso raccontare una storia cioè posso usarlo come strumento per il cosiddetto storytelling la narrazione digitale posso scrivere o far scrivere un articolo può essere utilizzato ancora come strumento per realizzare appunti o riassunti potrei anche caricare alcuni studenti di realizzare una sorta di dossier archivi su problemi o temi specifici di approfondimento e così via come si vede non ci sono limiti a ciò che si può fare bene continuiamo a vedere come settare cioè come configurare le caratteristiche generali del mio documento torniamo su questo menu perché abbiamo anche la possibilità di configurare e personalizzare la navigazione clicchiamo e vediamo che abbiamo due possibilità ho lo scrolling in questo caso io potrò visualizzare il documento come in un qualsiasi editor di testo usando la rotellina del mouse o usando la barra di scorrimento laterale e vari elementi scorreranno dall'alto in basso posso anche utilizzare un altro sistema cioè le pagine un attimo ecco in questo caso cosa succede dovrò sempre effettuare lo scrolling cioè la visualizzazione in cui il testo e gli elementi che costituiscono il mio documento scorrono dall'alto in basso ma ha terminato questo capitolo per accedere al capitolo successivo devo sfogliare girare la pagina usando le frecce della tastiera ho questa freccia in basso a destra e così avrò accesso al secondo capitolo che è questo posso tornare al primo capitolo usando l'altra freccia posso però anche decidere di selezionare altri strumenti di navigazione questo è quello che abbiamo selezionato in questo caso abbiamo un menu in alto a sinistra ecco vedete cliccando qui in alto a sinistra io posso navigare con un semplice click da un capitolo all'altro oppure posso anche inserire una barra di navigazione che mi consente di passare rapidamente da un capitolo all'altro clicco qui vado al capitolo secondo naturalmente adesso non è andato perché devo cliccare su use e poi a questo punto su salva bene abbiamo anche visto gli strumenti di navigazione e vediamo adesso i temi clicchiamo sui temi e anche qui abbiamo varie opzioni cominciamo a vedere le prime posso separare i paragrafi con uno spazio come viene in questo caso vedete per esempio tra questo paragrafo e quest'altro c'è un piccolo spazio così via ma posso anche decidere di indentare i paragrafi in questo caso vedete i due blocchi di testo dei due paragrafi risultano attaccati ma si riconoscono perché c'è un rientro un indentamento appunto posso anche decidere qui li chiama drop caps sarebbero i capilettera ecco qua vedete un capolettera mi segnala l'inizio del paragrafo del capitolo anzi in questo caso bene chiarito questo vediamo quali sono i temi vedete qui sono vari temi sono quattro io posso decidere per esempio di usare quest'altro un attimo di attesa che verrà visualizzato quanto prima ecco vedete abbiamo cambiato il font in questo caso bene lasciamo così tutto abbastanza chiaro decidiamo di usare le opzioni che abbiamo selezionato e quindi salviamo a questo punto non ci resta che visualizzare l'anteprima preview e vedere il risultato del lavoro che abbiamo eseguito nel configurare i parametri di impaginazione e di design del nostro documento ecco qua il nostro documento ovviamente è ridotto al minimo e ci sta bene così bene nel prossimo tutorial cercherò di mostrare come si inseriscono i contenuti all'interno del nostro documento sezione per sezione ogni sezione corrisponde praticamente a un capitolo della nostra storia del nostro racconto del nostro documento grazie per la pazienza e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti